Nell'ultima giornata romana per il presidente cinese arriva la firma sugli accordi tra Italia e il paese asiatico. Nella splendida cornice di Villa Madava, dove sono state schierate le delegazioni ministeriali dei due paesi, sono stati siglati 29 accordi, 19 quelli istituzionali, dai porti all'energia fino alla promozione dello stile di vita italiano in Cina. Soddisfatto il premier Giuseppe Conte, i nostri due paesi, ha detto, devono impostare relazioni più efficaci e costruire meglio rapporti che sono già molto buoni. Sulla stessa linea il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che già il giorno precedente durante l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva espresso soddisfazione per questo importante e storico accordo economico con il nostro paese. A promuovere i contatti tra le diverse civiltà, a consolidare le collaborazioni di mutuo beneficio, vogliamo rivitalizzare l'antica via della seta con l'obiettivo di condividere al meglio i frutti del progresso dell'umanità. Ci convergiamo che le due parti debbano rafforzare le sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo per valorizzare la collaborazione nei settori infrastrutturale, portuale, logistici, nonché dei trasporti maritimi, al fine di costruire una serie di progetti concreti e qualificati lungo la via della seta. A firmare le intese principali per la parte italiana è stato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza valgono 2,5 miliardi di euro, ha spiegato alla stampa. Accordi che hanno un potenziale di 20 miliardi di euro. Ma soprattutto con una visione che è quella di fare grande il Made in Italy nel mondo, sempre più grande, di esportarlo sempre di più e questo significa nuovi posti di lavoro in Italia, nuove aziende in Italia e aziende sempre più grandi in Italia. Quello che abbiamo fatto oggi è un altro passo per aiutare la nostra economia a crescere e aiutare soprattutto le nostre eccellenze che non hanno uguali nel mondo. Grazie.